Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, ci troviamo nell'eremo dei frati minori Cappuccini, qui a San Giovanni Rotondo, un piccolo spazio dedicato proprio alla preghiera per i vari gruppi che vengono qui in pellegrinaggio. Ecco, voi vedete sempre in sovrimpressione questo indirizzo di posta elettronica dove inviare le vostre lettere, le vostre testimonianze, stiamo raccogliendo tutte le vostre lettere, continuate a raccontarci, anche se a volte non rispondiamo, ma voi continuate a raccontare le vostre storie, come Padre Pio è entrato nella vostra vita. La Marchesa di Sant'Elia, Maria Francesca Starabba, nata a Rezzo, aveva una figlia, Maruzza, che accusava disturbi al cuore. Il medico di famiglia a Palermo le consigliò una visita specialistica da un noto cardiologo romano. Questi, dopo un esame accurato, diagnosticò un solfio al cuore. Per questo, secondo l'illustre clinico, la ragazza non avrebbe potuto sposarsi e né tantomeno avere dei figli. Alla mamma, disperata, un amico di famiglia suggerì di recarsi proprio da Padre Pio, quindi venire qui a San Giovanni Rotondo. Conoscendo proprio il dettore Sanguinetti, collaboratore di Padre Pio nella costruzione della Casa Sollievo della Sofferenza, si offrì di scrivere una lettera di presentazione al medico che le avrebbe facilitato l'incontro con il padre. Accettò l'offerta di aiuto la signora Starabba e partì alla volta del Gargano. Arrivata davanti al convento dei Cappuccini, senza mettersi alla ricerca di nessuno, entrò nella chiesetta piccola, nella chiesetta antica, mentre Padre Pio stava confessando. Si confuse tra la folla posta sul passaggio che Padre Pio dal confessionale, lei sentì le suppliche di tante persone, in modo particolare tante mamme, che rivolgevano a Padre Pio perché appunto per tutti i loro affanni, malanni, le loro paure, le loro richieste, le loro richieste di preghiera e lei non se la sentì di rivolgere anche lei un grido d'aiuto, ma in cuor suo cominciò a pregare e chiedere l'intercessione per la figlia. Vide allora così Padre Pio che si voltò verso di lei e con un cenno della mano la chiamava. Quindi la donna si accosta, nonostante la calca, si accosta proprio a Padre Pio e il padre le disse non ti preoccupare, tua figlia non ha niente, si può sposare ed avere figli. La figlia si sposò ed ebbe dei figli, come aveva detto Padre Pio. Grazie. Grazie a tutti.